Io penso, però, 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 io penso, però, 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 io penso, io penso, durante 34.2 Chi non salta è il genuano, eh, eh, 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 chi non salta è il genuano, eh, 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 eh Chi non salda è un genuano Chi non salda, chi non salda Anche io penso È un genuano Chi non salda è un genuano Chi non salda, chi non salda È un genuano Durante 34 partite Chi non salta è un genuano, che non salta è un genuano Chi non salta, chi non salta è un genuano Io penso È un genuano Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi non salda è il genuano. Chi non salta è il genuano Chi non salta è il genuano Chi non salta è il genuano Io penso È il genuano Chi non salta 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 è il genuano Dico e ripeto È il genuano Grazie a tutti.